In questo momento occorre accelerare il progetto, l'importante segno e più di un segno è la disponibilità di tutto il territorio e quindi i sindaci, tutti gli enti portatori di interesse a collaborare economicamente ma anche soprattutto progettualmente all'opera, questa importante opera del collettore. I 100 milioni del Governo, come già ribadito dal Ministro dell'Ambiente Galetti, ci sono. Attualmente sono al MEF che li ricollocherà a brevissimo entro le prossime settimane al Ministero dell'Ambiente. I capitoli di spesa confermati sono quelli del collettore del Lago di Garda e poi si tratterà di firmare l'accordo per programmare e pianificare negli anni l'opera.